Vediamo in partenza Verda che mette al centro, Blissett ha una buonissima occasione ma riesce anche questa volta a sbagliarla. Sull'altro fronte se reso ben servito va sul fondo, cerca la collaborazione di un compagno, vede Pruzzo, colpo di testa di Pruzzo, Piotti è molto abile in uscita a salvarsi. Veniamo alla ripresa, Gerets batte un fallo laterale, sfiora Blissett e Verda colpisce di piede, Tancredi para. Poco dopo stessa azione, testa di Blissett, testa di Verda ed è la rete del Milan, l'1-0. Reagisce immediatamente la Roma, Falcao impegna da lontano Piotti e poco dopo mentre i milanisti reclamano il fuorigioco, Magno Linfa segno che tutto è regolare, lo vedete, Nella va sul fondo, porge al centro dove l'ultimo della fila a non sbagliare è Pruzzo, è l'1-1.